Clamoroso alla Monpiano, Trieste batte Brescia 11 a 10. I campioni d'Italia perdono in casa, gara 1 della semifinale Scudetto. Per i Lombardi una partita iniziata male, con il rigore parato da Oliva a Renzuto, è finita peggio. Trieste è brava a prendersi i propri spazi e un doppio vantaggio iniziale sul quale costruisce passo passo tutta la partita. Brescia torna in parità una prima volta, poi una seconda, 4 a 4, sorpassa ma non riesce a scrollarsi di dosto la squadra Giuliana, che gioca più libera di testa, con minori responsabilità e una gran voglia di divertirsi. Per cinque volte Brescia avanti di un gol, per cinque volte Trieste recupera e nell'ultimo segmento di gara piazza lo scatto imperioso. Il giapponese Inaba, il giovane azzurro Podgornik e l'astuto Mancino Bini siglano le reti della vittoria, 11 a 10. Il vento di Trieste soffia sui play-off scudetto e sabato 14 la squadra di Bettini si giocherà il primo bonus per accedere alla finalissima. Sulle ali dell'entusiasmo stiamo facendo cose meravigliose, è una squadra che è un piacere da allenare e si vede, si vede in acqua perché sono veramente pazzeschi. Quello che riescono a fare, nonostante tutto, difficoltà e tutto, stanno veramente facendo un bel percorso. Abbiamo fatto fatica, abbiamo fatto fatica. Loro hanno giocato un'ottima partita, hanno meritato anche questa vittoria perché noi abbiamo fatto veramente tanti, troppi errori in tutte le situazioni di gioco.